Che riguardano le forze dell'ordine Perché mi guardi? Non hai segni della vocazione? Come ci devi fare in tutti i palli? Tu sai chi sono? Vero tu madre! Non hai segni della regolazione? Vero tu madre! Non hai segni della regolazione? Vero tu madre! Vero tu madre! Vero tu madre! Vero tu madre! Perché non mi guardi? Non hai segni della regolazione? Non hai studiato? Non mi pare che cosa che sono? Non ho segni della regolazione? Vero tu madre! Vero tu madre! Non hai segni della regolazione? Vero tu madre! 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 Non hai segni della regolazione? Vero tu madre! Vero tu madre! Nella regione per tua madre, tua madre, tua madre, tua madre Questo era il primo di tre pezzi che noi abbiamo da sempre, a vostra insaputa, dedicato agli omini blu